Mancano due minuti e trenta secondi. Uff, lo so, lo so che lassù ci sono le donne, i bambini, i vecchi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io sono un soldato! Non sono una dama di carità! Mi si ordina di sparare e io sparo. Tenetevi pronti! Maggiorno Crooker, l'ordine ai miei soldati glielo do io. E loro attatteli! Quando vi pare? E ricordatevi che sono un vostro superiore. Io sono venuto con pieni poteri! Mancano due minuti. Quando mancano? Un minuto e cinquantacinque secondi! E chi se ne frega! Sono lei! Sì! Io non sparo contro un paese inerme! Lo faccio prima evacuare e poi farò candare tutti i mortai che le vogliono dire! Non dite crescideria! La strazione dipende su sorprezza! Ah sì? Ma io non ne faccio di queste belle sorprese! Io sono un soldato! Non sono un assassino! Che conta la vita di cento, due cento persone davanti ai vittori e ai Grand Reich! Sono come in mosche! E io non ammazzo nemmeno le mosche! E sai cosa ne dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò! Né ora, né mai! A tante colonello! Io ho carta a fianca! E se si pulisca il culo! Allora!